Lei è sincretonisio, racconta un viaggio in treno, ha in mano un telecomando e da fine treno al treno canta il paesaggio. Lui sorride mentre lei tiene musica e lei continua a cambiare il paesaggio, non le va genio, nulla. Ma alla fine perde la paesaggio, butta via il telecomando, ci pensa lui. La torre di Pisa, il Battistero, la piazza dei miracoli, ma non solo. Il Bittercampari, il miracolo italiano. Unire la piazza famosa del mondo al prodotto famoso del mondo. Due banchi assolutamente italiani.